al salone del camper di parma 2023 caravan international porta la sua gamma elite in questo caso ci troviamo di fronte loron elite 90 m un mansardato costruito sulla base del pegeot boxer in questo caso da 140 cavalli ma c'è anche l'opzione da 165 lungo 7 metri e 40 con tanto spazio a bordo e una chicca che vi faremo vedere poi nel frattempo andiamo a vedere come dentro ed eccoci a bordo dove troviamo una delle caratteristiche principali del modello ovvero la mansarda con uno spazio veramente importante dove dormire con una finestrella su un lato al di sotto ovviamente la cabina di guida con i due sedili girevoli e una dinette con panca laterale e panca L tavolino versatile può accogliere tranquillamente 5 persone spostandoci nella zona della cucina troviamo diversi armadietti in cui è possibile stivare molte cose una cucina a L con lavello rotondo e pornello a tre fuochi è un frigorifero davvero di ottime dimensioni con un cassetto molto comodo per mettere bottiglie e cose più alte di qua troviamo un armadio di generosissime dimensioni vari altri sportelli di stivaggio sul lato del passeggero troviamo il bagno con bc e lavandino con due armadietti e doccia separata separabile attraverso anche una porta che si può chiudere nella parte posteriore troviamo il secondo letto una zona notte per due persone con un letto matrimoniale davvero ampio al di sotto della camera da letto posteriore troviamo la chicca di cui vi parlavo all'inizio del video ovvero il garage accessibile attraverso questa apertura ed eccolo qua il garage enorme che c'è al di sotto del letto superiore ci sono gli attacchi elettrici climatizzato e quindi uno spazio iperversatile che può essere utile a chi deve trasportare carichi importanti loron elite 90 m è già disponibile al prezzo di 69.090 euro